Quella all'ufficio postale di Borgo San Giovanni è stata una rapina. Testimoni parlano di un coltello in mano al rapinatore. Deve essere stato questo che ha terrorizzato una delle clienti che, seduta, stava aspettando il proprio turno per poter accedere allo sportello. È scappata, terrorizzata, non appena si è resa conto di potercela fare. Lei è un'altra cliente, fiondandosi fuori dall'ufficio e allontanandosi il prima possibile, fermandosi per rendersi conto di quello che era successo. L'individuo è entrato di corsa, tutto trafelato, ci ha riferito la signora, che prima di rendersi conto della situazione pensava fosse un dipendente arrivato in ritardo. È andato diretto dietro gli sportelli dicendo, fermi tutti, questa è una rapina. Io sono scappata, una volta fuori mi son sentita svenire. Non ho mai avuto tanta paura in vita mia. La descrizione del rapinatore corrisponde a quella che ha detto Andrea Comparato nel suo servizio. L'uomo è stato poi visto dirigersi verso le scuole, quindi sul lungolusenzo dove le macchine non avrebbero potuto corrergli dietro, facendo perdere le sue tracce, ma controllato dalle telecamere che lo hanno visto gettare qualcosa al di là di una siepe della ciclabile dalla parte di sottomarina. Qui si è diretta una squadra dei vigili del fuoco, chiamata dagli investigatori della polizia locale, chiamate a intervenire anche due operatori del verde, attrezzati per liberare l'area ripresa alla ricerca dell'elemento che potrebbe identificare con chiarezza l'autore del reato, che è stato visto gettare qualcosa anche da testimoni oculari. La ricerca dell'elemento probatorio non può rimanere intentata, ma probabilmente le riprese delle telecamere, non solo sull'usenzo, dovrebbero permettere un'identificazione certa dell'individuo in questione.